Sospese le nuove vaccinazioni al Monaldi attivi solo i richiami per over 80. Università Pesaro presentato un nuovo corso magistrale socio sanitario. Nuovi posti covid all'ospedale di Pesaro 124 nuovi casi in provincia. Primo martedì in zona rossa sente il mercato malumori tra gli ambulanti. Buonasera e benvenuti. Oggi è martedì 16 marzo. Questo è il telegiornale di Rossini TV. Apriamo questa edizione parlando delle novità legate alla campagna di vaccinazione. Dopo l'annuncio di ieri riguardante la sospensione a livello nazionale di AstraZeneca anche nelle Marche sono state fermate per il momento tutte le nuove vaccinazioni. Confermati invece i richiami con il vaccino Pfizer per tutti gli over 80 che avevano comunque già ricevuto la prima dose. Operazioni confermate anche al centro Monaldi. Allora questa mattina siamo andati a vedere che cosa stava accadendo. A poche ore di distanza dal ritiro di un secondo lotto di dosi avvenuto nelle Marche è arrivata nel pomeriggio di ieri dall'Agenzia Italiana del Farmaco la notizia dello stop in via del tutto precauzionale e temporaneo dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Il governatore della regione Francesco Acquaroli aveva quindi comunicato nella serata di ieri la sospensione di tutti gli appuntamenti già fissati per la somministrazione AstraZeneca che interessavano le nuove vaccinazioni sia per i cittadini over 80 sia per il personale scolastico docente e non docente sia per le forze dell'ordine. Le nuove date per le vaccinazioni ha proseguito il governatore saranno rese note ai cittadini interessati dal servizio sanitario regionale dopo il pronunciamento e le decisioni che arriveranno dall'Agenzia Europea per i medicinali. Garantite invece tutte le sedute di richiamo per gli anziani che nelle scorse settimane avevano già ricevuto la prima somministrazione con Pfizer o Moderna, come confermato anche dal primo cittadino pesarese Matteo Ricci in seguito alla comunicazione arrivata dall'Asur. Proprio questa mattina infatti il centro Monaldi, sede della campagna vaccinale pesarese, ha accolto come da programma tutti gli over 80 regolarmente prenotati per ricevere la seconda somministrazione. Insieme a loro però, come riferito anche dai volontari della protezione civile presenti sul posto, ai cancelli del Monaldi sono state diverse le persone che si sono presentate per ricevere la prima dose di vaccino, ignare di quanto annunciato ieri in seguito alla sospensione totale di AstraZeneca. Alcune di queste, giunte anche da altri comuni, hanno lamentato la mancata comunicazione della cancellazione della seduta da parte degli enti preposti, mentre altre non avevano visionato l'avviso regolarmente arrivato del rinvio dell'appuntamento. Disagi che non hanno comunque compromesso allo svolgimento dei richiami, per i quali nella mattinata odierna non sono state riscontrate criticità o ritardi rispetto agli orari assegnati. Stavattina facciamo il secondo giorno di richiamo perché il primo era sabato, oggi è il secondo giorno di richiamo. Abbiamo qualche problemino perché avendo ritirato l'AstraZeneca, alcuni oggi era il primo vaccino, di conseguenza avendo ritirato quello non siamo in condizioni di avere i vaccini, li dobbiamo rimandare via. La gente capisce, sta andando tranquillamente comunque. Il Pfizer è arrivato regolare, quello è tutto regolare, stiamo andando benissimo con i richiami, abbiamo avuto un altro problema ma non dipende da noi. Noi abbiamo oggi, domani, dopodomani, poi la prossima settimana, tutta la settimana. Questi sono i richiami perché quelli che abbiamo iniziato 20 giorni fa è il momento di fare i richiami perché è tutto il Pfizer che si fa dopo 21 giorni. Le scorse giornate qualche criticità anche sui ritardi e sul sovraffollamento qui a Monaldi, questa mattina la situazione è tranquilla? No, stamattina tranquillissima, stamattina fila tutto liscio, senza un problema, finiamo anche prima dell'orario perché noi abbiamo una sessantina all'ora, però la gente, siccome la prima volta venivano tutti all'inizio dell'ora e c'era assembramento, adesso quelli che vengono per la seconda volta hanno capito il funzionamento, vengono scaglionati, non c'è fila, come arrivano vanno dentro, perciò non c'è neanche 5 minuti di fila. Mi raccomando, voglio mandare un messaggio alla gente magari che ci guarda di compilare gli stampati anche per il richiamo perché molti arrivano qui si trovano in difficoltà, ci sono degli stampati che avete compilato la prima volta e da compilare anche la seconda per il vaccino. Si rafforza la realtà universitaria a Pesaro, questa mattina infatti è stato presentato un nuovo corso di laurea magistrale che vede insieme gli Atenei di Urbino e l'Università Politecnica delle Marche, mentre per il corso di laurea triennale in sistemi industriali e dell'informazione è stata annunciata l'attivazione di un nuovo indirizzo. Vediamo. Cresce e si amplia il rapporto che vede impegnata la città di Pesaro con il mondo universitario. La prima grande novità presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in comune è rappresentata dalla collaborazione dal lavoro congiunto dell'Università Politecnica delle Marche e quella di Urbino per l'avvio del nuovo corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Il nuovo percorso di studi avrà sede a Pesaro nei locali che ospitano le lezioni del corso di infermieristica, il quale a sua volta vedrà un incremento dei posti disponibili per le iscrizioni da 65 a 75. Il nuovo corso magistrale socio-sanitario avrà invece a disposizione 30 posti e gli insegnamenti saranno svolti da docenti provenienti da entrambe le università. Le università sono un bene pubblico, non devono competere fra loro ma semmai devono collaborare e noi ne siamo un esempio. Questo corso è un corso di laurea magistrale che consente a chi si è già laureato nelle triennale, ad esempio in fisioterapia, in logopedia e altre ancora, di continuare nei due anni successivi e specializzarsi proprio nella gestione, non solo quindi su aspetti tecnici, infatti come abbiamo sentito nella conferenza stampa, vengono affrontate anche tematiche multidisciplinari e in tal senso l'Università di Urbino che ha delle competenze specifiche collaborerà e i docenti dell'Università Poidecchia delle Marche collaboreranno con i docenti dell'Università di Urbino. È un'offerta che è una collaborazione per un'offerta formativa che va a favore del territorio in particolare della nostra provincia, ma ovviamente non solo perché poi le iscrizioni saranno aperte anche a studenti di altre province, però è importante perché appunto sancisce una collaborazione tra gli Atenei, quindi una collaborazione che cerca di integrare le risorse specifiche di Urbino con quelle di Ancona. Come ho detto nella conferenza stampa, noi siamo capaci di fornire docenti che nell'area della pedagogia, della psicologia, in ambito giuridico e anche di quello sociologico, quindi ci fa molto piacere. Ripeto, spero che sia l'inizio di una collaborazione che cerca di sfruttare queste opportunità e buone volontà che ci sono in questo momento tra i rettori. Oltre al rinnovo dell'accordo quadro tra il Comune di Pesaro e l'Università Politecnica delle Marche è stato poi presentato il nuovo indirizzo nautico del corso di laurea triennale in Sistemi Industriali e dell'Informazione, un nuovo curriculum dedicato al settore della cantieristica navale, per il quale la provincia di Pesaro e Urbino metterà a disposizione alcuni dei suoi spazi per lo svolgimento delle lezioni, mentre la realtà imprenditoriale del cantiere Rossini sarà a disposizione per le attività pratiche e di tirocinio previste dal corso. Entrano a far parte di questo progetto anche la provincia e anche le imprese del nostro territorio, perché parliamo del corso professionalizzante che va ad aggiungere, oltre al curriculum di meccanica ed elettronica, viene aggiunta la nautica. Quindi abbiamo la partecipazione anche del cantiere Rossini che ha dato disponibilità e anche la provincia entra a far parte di tutto questo progetto per le aule che serviranno i prossimi anni. Il potenziamento su Pesaro è un'opportunità non solo per Pesaro, ma per tutto il territorio, per i nostri ragazzi che studiano, per le nostre imprese e anche andiamo a formare i ragazzi nello specifico in quello che il territorio ha bisogno, perché tutto questo progetto nasce da un confronto continuo con le aziende del nostro territorio. In tutto questo ci voglio dire, lasciatemelo dire, che lo scorso anno quando siamo partiti che si pensava che fosse solo un atto politico, quest'anno con i fatti rispondiamo che diamo un'opportunità non da poco per tutto il territorio di Pesaro. Quindi l'unione fa la forza, questa università ha unito due colori politici, il territorio e anche tutti gli enti che ne fanno parte. Ed ora parliamo di Covid-19, continua a crescere all'ospedale Marche Nord di Pesaro l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid. Numeri davvero alti, aumentati nelle ultime settimane e negli ultimi giorni, visto anche il trasporto di pazienti provenienti da altre province. Le fotografie scattate quotidianamente dal servizio Sanità della Regione Marche e riportate attraverso i dati dei bollettini raccontano di uno scenario molto serio per quanto riguarda la situazione degli ospedali e il numero dei ricoveri nelle strutture regionali. Nello specifico ad essere particolarmente sotto pressione è proprio l'ospedale di Pesaro, il quale ormai da un po' fa i conti con la riduzione di posti letto e di personale, che dalle varie attività destinate alle più diverse patologie, vengono impiegati per fronteggiare la nuova ondata del coronavirus che ha colpito la Regione. La struttura pesarese è la prima nelle Marche per numero di posti e di pazienti che si trovano nei reparti Covid. Ad oggi sono 39 i ricoverati in terapia intensiva, mentre delle 214 degenze a livello regionale nelle aree di semi-intensiva, più di un terzo, 78 persone, si trovano a Marche Nord. 53 invece le presenze nei reparti non intensivi. Nelle ultime due settimane l'accesso alle aree intensive e ai reparti normali di Marche Nord è cresciuto di oltre il 50%. Nell'ultimo fine settimana l'ospedale pesarese ha visto l'attivazione di ulteriori posti letto sempre dedicati ai pazienti Covid, allestiti nel vecchio reparto di chirurgia. La disponibilità delle quasi 20 nuove postazioni però è terminata molto rapidamente e tutti i letti sono stati occupati già ad inizio settimana. All'esterno del pronto soccorso sono inoltre tornate le tende allestite anche nel periodo più duro della scorsa primavera, utili a ricavare il maggior numero di posti disponibili in cui poter accogliere i pazienti. L'alto tasso di degenze a Marche Nord riguarda pazienti provenienti non solo dal territorio pesarese ma anche da altre province dove il virus circola rapidamente come Macerate e Ancona, colpita dai numeri e dai contagi più severi registrati fino ad oggi di questa nuova ondata. E continuiamo a parlare di Covid in questo consueto spazio riguardante i numeri del Servizio Sanità della Regione Marche che ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.577 tamponi, 3.402 nel percorso nuove diagnosi, 2.175 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 529 con 124 nuovi casi in provincia di Pesar Urbino, 16 decessi notificati nella serata di ieri dal Servizio Sanità della Regione, tre vittime erano residenti nella provincia pesarese. In primo piano questa sera parliamo anche di cronaca perché proseguono anche i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-Covid nel nostro territorio. Oltre alle multe effettuate nel corso dell'ultimo fine settimana, nel pomeriggio di ieri la Polizia Municipale, accortasi della presenza di diverse persone sul balcone di un'abitazione in zona mare, ha interrotto i festeggiamenti non consentiti per una festa di laurea, alla quale stavano partecipando anche persone non residenti nella casa. Se in totale le sanzioni elevate dai vigili, sia per il ritrovo non permesso dalle attuali restrizioni in vigore, sia per gli spostamenti senza valida giustificazione effettuati dalle persone che si erano recate presso l'abitazione. Il Ministero dell'Istruzione ha finanziato una serie di interventi proposti dalla provincia di Pesaro Urbino relativi a manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori, per un totale di 5,3 milioni di euro messi a disposizione dalla legge di bilancio 2020. Soddisfatto il Presidente della provincia, Giuseppe Paolini, anche per altri stanziamenti annunciati dal Ministero per l'Istruzione, Patrizio Bianchi. Parliamo anche di politica, perché c'è stato un cambio nella rappresentanza locale del Partito della Lega. Lodovico Doglioni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di referente provinciale della Lega di Pesaro Urbino. Il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, ha nominato al suo posto l'onorevole Mauro Lucentini. Il direttore della Confcommercio di Pesaro Urbino, Amerigo Varotti, è tornato a sottolineare la necessità di fare squadra nella campagna di promozione turistica dell'intero territorio provinciale, appoggiando quindi i concetti espressi dal Presidente provinciale delle Proloco, Damiano Bartocetti, che qualche giorno fa aveva rimarcato la necessità di fare squadra per le iniziative del territorio. Quello di oggi è stato il primo martedì della provincia di Pesaro Urbino, ma in generale dell'intera regione Marche, in zona rossa. Assenti quindi nell'area del San Decenzio, le tante bancarelle che compongono il consueto mercato cittadino. Le uniche presenti ed autorizzate alla vendita sono quelle dei genere alimentari, mentre cresce il malumore tra gli altri ambulanti costretti nuovamente a fermare le loro attività. Con l'ingresso delle Marche in zona rossa si limita anche l'attività del mercato cittadino che si svolge ogni martedì al San Decenzio. Sono infatti annullati i mercati settimanali del martedì, quelli rionali e quelli previsti per la terza domenica del mese fino al prossimo 29 marzo. Le uniche attività che si possono svolgere in zona rossa sono infatti quelle dirette alla vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici. Limitazioni quindi per la maggior parte degli ambulanti e dei venditori del mercato del San Decenzio che sono stati costretti quindi a chiudere nuovamente le proprie bancarelle. Purtroppo apprendiamo con grosso dispiacere il passaggio in questa zona rossa anche perché non è detto che il 29 riapriamo e purtroppo i mercati sono sospesi, anche se comunque tantissime attività di commercio al dettaglio e vendita al pubblico sono aperte. Non riusciamo a capire perché i mercati che sono all'aria aperta vengono chiusi e mentre beati loro alcune attività vendendo i nostri stessi prodotti rimangono aperte. Questo non è per fare la guerra tra poveri, perché è una guerra tra poveri, non voglio accusare nessuna categoria, però due pesi, due misure. Tre o quattro appuntamenti che saltano, dopo un anno siamo punto a capo, la pandemia l'hanno pagata solo alcune attività. Qui dalla sera alla mattina chiudono le attività per 15, 20, un mese, due mesi, ristori se ne vedono pochi o zero e quindi andiamo molto molto male purtroppo. Mentre l'anno scorso c'era anche una grossa paura e quest'anno siamo molto arrabbiati e molto incattiviti verso queste forme che penalizzano solo alcune attività tra cui i mercati che ripeto sono all'aria aperta. Le attività, il mercato dell'alimentari continua a fare il mercato, però il resto di abbigliamento, calzature, abbigliamento da bambino e intimo sono chiuse, quindi il mercato extraalimentare è completamente chiuso. Dopo gennaio-febbraio che notoriamente i mercati non c'è gente, da sempre, marzo iniziava a essere il cambio di stagione, si iniziava a lavorare, si iniziava a vendere la merce estiva, adesso questo stop forzato di 3-4 settimane ci mette in ginocchio perché già soppicavamo prima, adesso purtroppo questa chiusura ci penalizza tantissimo, sperando che il governo riconosca dei ristori. Marzo inizia la bella stagione, inizia il cambio di stagione, le perdite sono significative che poi non riandremo a recuperare, purtroppo non si riandrà a recuperare perché non è che quando riapriremo le persone compreranno il doppio della merce. Al mercato abbiamo sempre avuto la mascherina, c'è sempre il gel igienizzante a disposizione della gente, non ci sono stati questi assembramenti che forse le persone che non frequentano il mercato pensano, ma non c'è stato questo assembramento e spero che questa sia l'ultima chiusura. Purtroppo noi siamo in ginocchio e siamo molto molto arrabbiati. Fra i tanti settori fermi a causa dell'ingresso in zona rossa c'è anche quello dell'estetica. Ad intervenire sull'argomento è Stella Scarpa, presidente del gruppo Bellezza, Salute e Benessere di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord che abbiamo intervistato. Ci ritroviamo a Malincuore nella stessa identica situazione di un anno fa, praticamente in zona rossa con le nostre attività chiuse in quanto i servizi alla persona sono ritenuti attività non indispensabili. Come presidente del gruppo Bellezza, Salute e Benessere, Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord vi sento chiamata in causa proprio a rappresentare la nostra categoria, la categoria dei centri estetici, delle estetiste e di far presente che molti dei servizi erogati all'interno dei nostri centri estetici sono invece da ritenere indispensabili e vadano proprio equiparati ad altre attività a cui è consentito restare aperte. Pensiamo proprio al percorso dell'estetista che ha fatto nel corso del tempo e quindi ai numerosi corsi di aggiornamento che lei ha fatto per accrescere le proprie competenze professionali, addirittura praticamente è diventata sempre più professionista, responsabile, soprattutto in prima linea nel benessere della persona. Pensiamo ad esempio a tutte le estetiste specializzate in estetica oncologica che si rendono attive quotidianamente nei confronti del miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici, intervengono sulle loro cicatrici chirurgiche, sul legnare la loro pelle dai disagi delle terapie, intervengono sul benessere della loro circolazione attraverso il supporto del massaggio specifico. Ma pensiamo anche alle estetiste specializzate in percorsi di dimagrimento e che rientrano anche nell'ambito del far star bene una persona nella sua rimessa in forma funzionale. Ma pensiamo anche a tutte le colleghe specializzate in tecniche di epilazione laser. Pensiamo quindi a questo punto cosa vuol dire fermare questa tipologia di attività e cosa vuol dire interrompere un iter di trattamento che segue una specifica e seria programmazione proprio nel rispetto della fisiologia di un corpo umano. Sono tipologie a mio avviso di intervento che debbono essere conseguenziali e non interrotte improvvisamente e soprattutto non possono continuare ad essere viste come attività non essenziali. Per ultimo, sempre non per grado di importanza, è opportuno anche sollevare il problema dell'abusivismo che andrebbe a proliferare in caso di chiusura prolungata delle nostre attività. Molti nostri concorrenti sleali, chiamiamoli pure così, approderebbero all'interno delle abitudini dei nostri clienti senza il rispetto di alcun protocollo di sicurezza e con conseguente rischio di contagio. Permettetemi di dirlo, non solo nei confronti del Covid, ma pensiamo a tutte le patiti, l'AIDS e tutto che è dicendo a quanto si può andare incontro. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo la programmazione di questa sera su Rossini TV alle 21.15. Vi faremo vedere questo programma dedicato ai bambini che si chiama Jokart. E poi alle 22 c'è la replica di Wine & Luxury, il nostro programma della domenica sera, ma che potete vedere in replica anche il martedì alle 22. Quindi questa sera potrete vedere Filippo Gasperi che è il sindaco di Gradara, Hotel Lorenzi che è esperto e non gastronomico, Luca Costanzi che è il direttore di Food & Beverage dell'hotel Mirabel di Roma e poi ci sarà anche Riccardo Zannetti che è titolare di Zannetti Watches. Vi ricordiamo anche la rassegna di domani, la nostra rassegna del mattino in cui leggiamo i titoli dei quotidiani locali. Vi aspetto quindi domani alle 7.20 in diretta TV e Facebook. Grazie come sempre per averci seguito. Buon proseguimento di serata.